Amici di A Love Canosa siamo alla San Sabino, una bella sorpresa, una bella notizia, rivedere Leo Caputo, il nostro numero 9 dell'anno scorso, ex numero 9, un numero 9 che ha fatto tanto bene a Canosa e che ricordiamo per la sua forza, la sua arguzia, la sua tenacia su ogni pallone, insomma è venuto a salutare i suoi amici, il suo Canosa. Era d'obbligo venire a salutare tutti i miei ex compagni di squadra, però io mi sento ancora parte del gruppo. È stato bello entrare di nuovo in questo campo, in questo stadio, salire di nuovo con le scale che mi hanno accompagnato per tutta una vita praticamente. Ho letto i tuoi post, insomma, i tuoi post quando sei andato via davvero commoventi, perché abbiamo letto davvero il tuo grande attaccamento per i colori rosso e blu. Io sono nato con il core rosso e blu, quindi il post era d'obbligo anche fare il post, però mi manca tutto, tutto, dall'allenamento, dalla preparazione, l'ansia della domenica, tutto, mi manca tutto. Adesso come segui il Canosa? Adesso lo seguo con qualsiasi piattaforma social, al Terra del Sole, I Love Canosa, Instagram, poi Whatsapp, c'era Martina che mi... Ecco Martina, la tua compagna che ti segue sempre e che qualche volta ti goccola un attimino proprio perché ogni tanto la gocciolina dagli occhi esce. Sì, infatti devo ringraziare sia lei anche tutti i miei amici e la mia famiglia che mi hanno supportato in questo, perché non è stata una decisione facile, però purtroppo era doverosa prenderla. Una nuova vita, una nuova vita con il pallone o senza pallone? Mi fai una domanda difficile Pino, sicuramente il pallone mi accompagnerà fino alla morte. Lavoro e pallone o solo lavoro? Lavoro e pallone sicuramente. Lavoro e pallone, quindi questo vuol dire che su stai cercando anche di abbinare il tuo hobby? Sì, se c'è la possibilità sì. Guardando un po' l'inizio di questo campionato, un giudizio da te lo vorrei su questo inizio del campionato un po' turbolento del Canosa, insomma sapevamo che l'inizio poteva essere difficile, siamo una matricola, abbiamo trovato due squadre fortissime, abbiamo perso tutte e tre le partite, questo ha fatto male un pochettino sul nostro umore. Ecco tu come leggi questo momento? Se un momento c'è stato anche nella tua carriera simile a questo? Sì, sì, naturalmente ogni campionato ha la sua storia, purtroppo non avendo vissuto dall'inizio tutta la situazione non posso giudicare, però sicuramente adesso con il nuovo mister sicuramente si riprenderà la squadra. Da quanto mi hanno potuto dire ci sono parecchie difficoltà a livello di gruppo, credo, di gioco, non so, poi non voglio intromettermi perché comunque, ripeto, non ho vissuto la cosa dall'inizio. Ascolta l'ultima domanda Leo, ma hai sentito il tuo vecchio grande amico Gigi Trano? Sì. Cosa ti ha detto? Io ogni fine partita lo chiamavo sempre. Adesso? Adesso lo seguirò fino a quando non partirò, lo andrò a vedere tutti i giorni perché mi è mancato anche lui, mi mancherà sfotterlo, mi mancherà gridare contro di lui, mancherà tutto. Comunque sarai qui fino a dicembre se non erro, quindi verrai e ti troverò qualche volta sulle tribune. Certo, certo. Va bene, quindi non devi andare via, stai attento perché ci sono grandi sorprese su Arlov Canosa in merito proprio alla partita, quindi ti voglio con me nelle prossime partite del Canosa Calcio in casa. Va bene Leo? Va bene, comandi, comandi. D'accordo, un grande saluto, grande gioia per aver salutato un vecchio amico, un grande centravanti del Canosa Calcio, Leo Caputo, è venuto apposta qui a Canosa a salutare i suoi amici, i suoi vecchi amici. Questo è tutto per il momento dal San Sabino di Canosa, ma rimanete lì perché ci sono ancora tante novità, oggi sempre dallo stadio comunale San Sabino. Ripresa degli allenamenti qui al San Sabino, riprende una settimana, una domenica difficile, abbiamo il capitano Nicola Landolfi, una partita nata male, finita peggio. Sì, come hai detto una partita brutta, una partita sfortunata perché ci sono stati episodi a sfavore, anche se preferisco anche non parlarne perché ormai se l'albio decide nel bene e nel male. Purtroppo possiamo fare molto meglio noi sul piano del carattere, della voglia perché secondo me è quello che è mancato. Ascolta Nicola Landolfi, tu sei il capitano di questa squadra, sei l'uomo più esperto, insieme a Crisantemo, a Bruzzese, insomma, c'hai tanta esperienza. Hai passato altri momenti così particolarmente difficili nella tua carriera? Sì, perché può capitare un periodo un po' più boio, dove c'è un periodo che va tutto male, come quest'anno, sapevamo della difficoltà nelle prime partite, perché adesso abbiamo altre due partite impegnative, Manfredone e Betritto. Sapevamo, però non ci dobbiamo scoraggiare, altrimenti diventa ancora più dura. In questi casi ci vuole tranquillità, dobbiamo essere riuniti e andare una partita alla volta, pensare una partita alla volta. Ecco, il nostro obiettivo è quello della salvezza, Nicola, è inutile dirlo, dobbiamo raggiungere il primo possibile una quota 30-32 punti. Ecco, lo si può fare riunendo di nuovo il gruppo, ritrovando questo gruppo, ritrovando la grinta, mettendoci tutto quello che c'è dentro in ogni partita. Ogni partita dovrà essere adesso una finale. Sì, infatti è proprio quello, perché secondo me si è troppo quello che manca, che sta mancando in queste partite, la cattiveria giusta, la voglia di sudare la maglia, è quello che secondo me è venuto a mancare, perché anche gli altri ci mettono il doppio della voglia che ci mettiamo noi, l'abbiamo vista anche domenica. Nicola, abbiamo ritrovato il pubblico, gli Ultras, abbiamo ritrovato tutto, ecco, adesso dobbiamo ritrovare la squadra, un messaggio del capitano a questi tifosi che comunque in perterri ti vengono ogni domenica a guardare la partita, è sempre in tanti, in massa. Sì, c'è solo da ringraziarli, perché non ci lasciano mai soli, anche domeniche le numerose. Mi dispiace ancora una volta di averli delusi, sperando che dalla prossima di farli divertire un po'. Io spero non ci abbandonino e continuo a seguirci. Posso chiedergli scusa per le brutte prestazioni e posso garantire che dalle prossime cambieremo l'osteggiamento. Grazie capitano, ti lascio agli allenamenti, il mister Ricucci è già in campo, grazie per essere stato qui. In una settimana difficile, è difficile parlare, lo confesso, insomma, ho dovuto scegliere capitano perché la sua voce è importante, soprattutto per coloro che ci sono dall'altra parte, per i nostri tifosi. Grazie ancora Niccolò Landolfi, chiaramente a voi sempre rimanete in sintonia con I Love Canosa, sempre vicino allo sport e soprattutto ai colori rosso-blu.